in questo tutorial vediamo come costruire un video messaggio di auguri da diversi soggetti innanzitutto raccogliamo i mini video di tutte le persone coinvolte alla co-costruzione del video messaggio in un'unica cartella a titolo di esempio prendo quattro clip di video e qualche immagine animata vedremo come inserire uno sfondo decorato le caselle del video e l'animazione di inquadrare un video messaggio alla volta questa funzione è utile se il gruppo che costruisce il video messaggio ha spezzettato i messaggi o la storia o poesia e ognuno legge il suo pezzo e alla fine si avrà tutto il messaggio o la storia o la poesia completa nei riquadri vuoti che vediamo si possono inserire altri video in base alle persone coinvolte innanzitutto andiamo su powerpoint e eliminiamo le caselle di testo cerchiamo uno sfondo che ci piace e con il tasto destro facciamo copia all'immagine torniamo al nostro lavoro e andiamo su design e inseriamo cliccando su clipboard che è quella copia che abbiamo fatto prima che lo trova direttamente quindi lo inseriamo scegliendo picture background fill e poi clipboard purtroppo non ho la versione in italiano ma i passaggi sono simili andiamo su inserisci e inseriamo una tabella e scegliamo in questo caso quattro caselle per quattro e poi ingrandiamo questa tabella una volta che abbiamo aggiustato la tabella la dimensione della tabella andiamo a prenderci un'immagine per coprire la tabella le caselle della tabella quindi facciamo coppia facciamo un click sempre sul design questa volta andiamo su table design della tabella e andiamo inserire sempre incollando dalla memoria del computer basta in questo caso fare inserisci da clipboard quindi dalla memoria del coppia e lo possiamo inserire casella per casella oppure come vedremo tra poco anche selezionando direttamente quattro caselle o cinque quello che vogliamo tutti assieme e possiamo fare anche questa clipboard quindi incolla da clipboard e così è anche più veloce se avete la versione in italiano clipboard dovrebbe in teoria corrispondere a appunti ora facciamo un click su una casella di testo e inseriamo il nostro video quindi andiamo su inserisci andiamo sulla cartella dove abbiamo salvato i vari clips i video che ci hanno inviato i colleghi o gli amici selezioniamo il primo e poi clicchiamo su inserisci quando inseriamo inizialmente il video è molto grande quindi dobbiamo ridimensionare e poi spostare sulla casella che vogliamo in questo caso ridimensiono e sposto sulla prima casella e poi aggiustiamo la dimensione una volta che abbiamo aggiustato proseguiamo e andiamo ad inserire il secondo video quindi sempre da inserisci video da file seleziona il secondo video e poi di nuovo lo dobbiamo ridimensionare perché inizialmente come abbiamo visto prima il video copre tutta la slide quindi ridimensioniamo e posizioniamo in una delle caselle lo aggiustiamo velocemente e poi proseguiamo ancora con il terzo video la procedura è sempre la stessa quindi inseriamo ridimensioniamo e poi lo spostiamo su una delle caselle dove vogliamo se in un video vogliamo eliminare un pezzettino facciamo un click andiamo su playback trim e facciamo un taglio delle parti che magari non ci interessano oppure se il video è un po più lungo di quello che vogliamo possiamo qui fare il taglio aggiustiamo velocemente e inseriamo l'ultimo video ridimensioniamo di nuovo il video e poi lo posizioniamo in quella posizione oppure possiamo anche mettere sotto quell'altro ecco e poi ora procediamo a creare una forma per coprire inizialmente tutti i video in maniera tale che poi si aprino uno alla volta quindi andiamo su inserisci forme prendiamo un quadrato e poi disegniamo sopra il primo video facciamo prima l'animazione di uno e poi semplicemente lo copieremo andiamo a prendere uno sfondo per coprire la nostra forma che abbiamo appena inserito quindi l'abbiamo copiato facciamo un click design andiamo su shape format e di nuovo dagli appunti quindi da clipboard facciamo incolla e qui abbiamo che la nostra prima finestra diciamo ora inseriamo un'animazione l'animazione sono tante quindi ognuno può scegliere quello che piace possiamo fare dei vari tentativi per vedere se è quello che vogliamo e una volta che abbiamo deciso per un video molto veloce e semplice inserisco soltanto un'animazione in uscita quindi scelgo uno a caso e poi semplicemente con il tasto destro copio e poi incollo o con il tasto destro o il ctrl v e sposto la casella già con l'animazione per coprire un secondo video oppure possiamo semplicemente tenere premuto il tasto ctrl e trascinare la casella che vogliamo duplicare e così abbiamo delle copie già animate e abbiamo coperto i nostri video dal pannello delle animazioni spostiamo in alto tutte le nostre caselle che avevamo creato come delle finestre per coprire i video quindi li spostiamo tutti in alto per far sì che prima si aprino le finestre e poi partono i video selezioniamo il primo riquadro e poi andiamo a farlo partire con un click soltanto con il primo tutto il resto lo facciamo partire after previous quindi dopo il precedente selezioniamo uno alla volta e cambiamo e scegliamo sempre after previous quindi è una cosa manuale quindi dobbiamo selezionare un riquadro alla volta e un video alla volta in maniera tale che siano tutti ben sintonizzati una volta che abbiamo sistemato i triggers quindi quelli che fanno scatenare la azione che abbiamo scelto facciamo una prova ed ecco che i video che abbiamo inserito partono uno alla volta ora proseguiamo per vedere come fare inquadrare un personaggio alla volta duplichiamo la prima casella facciamo delle coppie giusto per averli lì poi eventualmente elimineremo quello che non ci servono intanto duplichiamo e li lasciamo lì andiamo alla seconda casella per vedere come inquadrare un personaggio quindi eliminiamo le caselle che abbiamo creato nella prima diapositiva quindi ora abbiamo tutti i video pronti cosa faremo andiamo a disattivare la partenza in automatico dei video che non ci servono quindi facciamo un click andiamo su video format e rendiamo grigetto in maniera tale che faccia come un indicatore di disattivato ed ora andiamo su playback quindi sempre facciamo un click e disattiviamo con il colore grigetto tutti i video che non vogliamo utilizzare tutti i video che non vogliamo inquadrare quindi sempre da video format andiamo sul colore e poi rendiamo grigi adesso andiamo su playback e togliamo quella partenza in automatico che era impostato e scegliamo che i video partono solo se ci clicco sopra dal momento in cui non cliccherò su perché c'è già uno che parte in automatico questi vengono un po silenziati una volta che abbiamo tra virgolette disattivato i tre video quindi abbiamo impostato che solo se ci clicco sopra partono applichiamo la transizione delle diapositive quindi clicco sulla prima diapositiva e vado su transizione e scelgo morfo per semplicità morfo così transitano da una all'altra senza rendersi conto appunto che ci siano stati dei cambiamenti ora lavoreremo solo su falsa riga della seconda diapositiva quindi quelle in eccesso posso anche eliminare mentre l'ultima è soltanto la coppia della prima che mi servirà per inserire gli auguri finali ora faccio la procedura di prima quindi disattivo il primo video che avevamo inquadrato nella seconda diapositiva lo rendo grigetto tolgo l'automatico metto che solo se ci clicco parte inquadro un secondo video dove lo renderò a colori quindi faccio un click lo rendo a colori e poi tolgo la funzione che avevo scelto prima lo rendo automatico in questo caso la terza diapositiva tre sono silenziati e un video nuovo è attivato procedo a duplicare anche la terza silenzio come abbiamo visto prima uso il termine silenzio nel senso di disattivare con il colore grigetto togliere l'automatismo che abbiamo messo e quindi sembra quasi che sia inquadrato soltanto il video che in questo momento metterò a colori ecco adesso c'è quel video inquadrato partirà in automatico mentre tutti il resto che abbiamo inserito rimangono tra virgolette ancora muti ecco che procediamo ancora a duplicare e rendere grigetto quello e attiviamo l'ultimo video lo rendiamo automatico lo rendiamo a colori ed ecco che abbiamo terminato semplicemente con un duplica abbiamo tutte le diapositive quasi pronte quindi abbastanza veloce nell'ultima diapositiva che è soltanto il duplicato della prima inseriamo un word art per scrivere il messaggio finale un messaggio che vogliamo e poi inseriamo un'animazione a scelta una volta sistemato possiamo anche inserire un'immagine gif di anno nuovo quindi auguri di anno nuovo facciamo inserisci immagine lo scegliamo dal nostro computer immagine che abbiamo precedentemente già salvato inseriamo e poi posizioniamo dove vogliamo in questo caso lo ridimensiono lo metto in quella posizione inseriamo un'animazione anche sull'immagine gif che abbiamo scelto l'immagine semplicemente è stata riperita dal web scrivendo una parola chiave happy new year per esempio 20 21 col tasto destro salviamo e poi dal nostro computer abbiamo inserito ed ecco l'effetto finale dell'ultima diapositiva ora vediamo l'effetto finale del lavoro di messaggio di auguri corale e questo è tutto alla prossima puntata ciao 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 ciao